Bella, picciotti, sono tutto fumato, guarda, forse cadene se tu ne fai, guarda tu, non apri la mano, ti vuono che cosa mia, uff, ehi. Grazie. No, non è vero, che sfiga, che sfiga, che sfiga, sta rispondendo, what the fuck? Tofano. No hai 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 Sì che se avrò colpis farerò Vedi boss, stai attento bene, bops Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Ok, stiamo allenando poi invitiamo un altro del team e facciamo a re Che f***a, è buono, dai Raga, posso fare qualsiasi con voi, infatti Non ho voglia di sussare Ah, andiamo a fare la box, vai Dobbiamo simulare l'arena Io sono arriva con 2.000 punti, tu vale quanti punti C'ho la 2.000 E' un'arena quante punti Ah, io ne ho 1.700 1.700 Oh mio Dio Sì, mezzo uomo C'è un trans Tua mamma Io ho già messo Facciamo io Facciamo anche Vai, io Squadra 1 No, no Io Se non sarebbe Va bene VIX Non sta scherzando No, io Squadra 2 Ciao Luca Poi fare più vino Io l'altro giorno Ragazzi, uno che vuole fare più vino Ma il cazzo Come si chiama? No dai, sto scherzando Lo fa Sì, sì, bro Ma, eh, dimmi Tre volte, tre volte i cazzo Mezzo uomo Sì, ma dimmi Il suo Il Dio Eh, vissi che si trovano Sì, ma io sono freddo Mezzo uomo Ma, certo, io sono freddo Sì, ma che indica Sai che c'è Non mi ha fatto E le cose Sì, non mi è Voi Vi ho fatto Sì, non mi è servito Come se Solo faccio L'uomo Un po' Signale Non mi è Sì Allora 社 È Se 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 S Se 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 guarda come sto ma guarda come sto ma punto di rottura qua punto di rottura 60 quello che ti regalato io 60 e poi c'è altro modo di chiamare mi regalato nulla no perché tu fosse il culo ok c'è ma in realtà io vi chiamiamo non è la giocatore del suo giudizio non mi frega ma io amare la sua vita quale il piede non l'avevo visto che era entrato in giuro perché mi sentono là dietro Dix, sei carico eh però non sono carico no, perché ti sto facendo il culo va l'è, non sto amare la legna eh no, li lancio il vicone di shashi stai a lanci a butti perché tu non sei stato perché tu non sei stato tu hai mai 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 che fai vicio, vicio e non è normale che è normale spammato in tanto 4 a 0 vix vix, sei freddo sei freddo sì, ma a parte che poi poi spammato in tanto questo è il valero che spammato, non io eh, adesso chi è che ha spammato vicio 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 ma da vabbè che voglio che fa lì si è un uomo da tra quello sparo solo con la r ma no se gli togli il pop la stessa cosa dai io voglio farà perché un uccellino non è andato perché mi sto grattando il cappetto sei diventato un uomo vabbè mi trovate le costruzioni no e tra le miei trasciate così ci aiutte cose si si controler player controller player sono suvoli controller raga invitate qualcuno per fare controler player sono 90 guarda guarda Guarda, sto sempre con la R C'è vita, mazza Cioè, metto Fortnite per il tempo di r Già vi batto qui, ragazzi Voi fare una cosa, vuoi fare... Bravi bambini, bravi bambini, bravi! E io facciamo gli occhi sui contropanelli Tutte queste belle cose A me sto scherzando Ironia, black humor, lo conosci? O non lo conosci? No! No, abbandonato! No, perché vitti? No, abbandonato! 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 No, abbandono! Quindi abbiamo la backturanza Di quattro la cordo E gli occhi.. Guattέλosi Ecco la decision party итель Il Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 c'è uno. uno da qua sopra. No, no. c'è. no, no. c'è. Allora, no. c'è, no. c'è. sopra una casa. ok, c'è. c'è. Oh, no, no. no, 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 no. c'è. adio. adio. c'è. l'importante. c'è. 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 c'è.